Ecco, si può cominciare perché tanto non credo che arriveranno le foglie oceaniche, vista la bella giornata. Allora, è tanto tempo che con Dario volevamo organizzare qualcosa per i giornalisti del territorio, naturalmente visto che siete quasi tutti di Prato, per insegnare a usare e a interpretare i dati che poi il registro imprese mette a disposizione, che sono tanti e che possano essere utilizzate nelle maniere più diverse. Io lavoro con Dario da tanti anni e lui mi ha insegnato tante cose. Tra le cose che mi ha insegnato è che si danno solo dati verificati di cui siamo sicuri, non si danno proiezioni, indiscrezioni o cose varie come fanno in tanti. Tante volte quando gli chiedo un dato strano che magari mi chiede qualche giornalista, lui mi dice non te lo do perché non ci sono numeri che li posso verificare. Io lo ringrazio per essere sempre così rigoroso perché effettivamente è giusto essere così e mi ha insegnato tante cose. E stasera ci insegnerà altre cose. Per chi non lo conosce, uno l'ho detto all'inizio, è il nostro responsabile dell'ufficio studi e quindi è così la parola alle 20 alle 6 di un sabato sera. Allora, buonasera a tutti. Io in realtà non avrei molto la pretesa di insegnare niente. Volevo soltanto cogliere quest'occasione per potervi far vedere un pochino cosa c'è dietro alle cose che periodicamente presentiamo. Alcuni di voi li conosco, partecipano alle conferenze stampa che organizziamo. Mi sembra anche una bella iniziativa quella di poter veramente farvi vedere tutto il lavoro che c'è dietro a quello di cui voi vedete poi la fine. Ci ho pensato un po' io a questo intervento e ho pensato sostanzialmente di articolarlo in due momenti distinti. In un primo momento vi volevo proprio presentare la banca dati, l'architettura della banca dati sulle imprese gestite dal sistema camerale italiano. Non perché voi imparaste ad utilizzarla, visto che è considerato che l'accesso è riservato alle Camere di Commercio, ma per poter avere un'idea di quelle che sono le informazioni di cui il sistema camerale italiano dispone, di come queste informazioni sono gestite, articolate e organizzate. Nella seconda parte invece vi ho preparato qualche elaborazione per farvi vedere un pochino che differenza c'è nel presentare lo stesso dato in modo diverso oppure come si può offrire una lettura più o meno completa e articolata partendo esattamente dallo stesso tipo di informazioni. All'interno del sistema camerale italiano gli strumenti che abbiamo a disposizione per elaborare dati statistici sulle imprese sono molteplici e probabilmente quello più evoluto e quello più potente in questo momento è StockView la cui interfaccia iniziale è quella che vedete proiettata a video. Una premessa di metodo, come sono organizzati i dati del sistema camerale? Fisicamente vi dovete immaginare che ci sia una sorta di grosso contenitore all'interno del quale provengono dati da diverse fonti. La principale è il registro delle imprese al quale è agganciato il repertorio economico-amministrativo delle Camere di Commercio che contiene informazioni aggiuntive di natura economica sul sistema delle imprese ad esempio contiene tutte le informazioni sulle unità locali che sono fisicamente separate dalla sede legale il registro delle imprese limita il suo focus alla sede legale dell'impresa contiene tutte le informazioni sulle persone fisiche che stanno dietro a diverso titolo a una determinata realtà imprenditoriale e quindi la prima architettura fondamentale che abbiamo di come sono organizzati i dati è proprio da una parte le informazioni di natura economica e amministrativa sulle imprese e da quell'altra le informazioni di natura economica e amministrativa sulle persone fisiche che all'interno di queste imprese detengono delle cariche sociali amministrativo, amministratore, socio, titolare, socio di capitale e via discorrendo ci sono altre informazioni che confluiscono all'interno di questa banca dati la principale è di fonte IMS relativamente al numero degli addetti periodicamente da un annetto e mezzo a questa parte ogni tre mesi i dati del registro delle imprese vengono incrociati fisicamente con quelli dell'Inps in modo da offrire una fotografia della situazione occupazionale e qui mi correggo subito i dati che sono contenuti all'interno del registro delle imprese di fonte IMS sul numero degli addetti possono essere correttamente utilizzati esclusivamente per dare un'idea della dimensione dell'impresa ma non per dare un'idea di quello che è l'andamento occupazionale all'interno di un determinato territorio questo perché l'aggancio viene fatto a livello di codice fiscale e quindi tutti i dati relativi alla situazione occupazionale di una determinata azienda sono attribuiti per convenzione alla sede legale fare un esempio banale tutti gli addetti LS Lunga stanno a Milano giusto per essere chiari allora adesso io vi faccio vedere come funziona questa banca dati mi piacerebbe però se avete curiosità se volete delle elaborazioni particolari se vi viene in mente qualcosa questa è l'occasione per chiedere da parte vostra ma questo si può fare ma questo si potrebbe in qualche modo elaborare perché poi alla fine io penso che il senso di un incontro come questo debba essere soprattutto questo qui allora questa parte qui che voi vedete sulla sinistra del monitor sono tutti sotto contenitori della banca dati generale che consentono ognuno con un'architettura un sistema diverso di poter fare delle elaborazioni particolari non è mia intenzione presentarveli tutti uno per uno perché sennò probabilmente domani sera saremo ancora qui vi presento i principali però già per come sono gestite e articolate in questo menu di navigazione si dovrebbe vedere che ci sono un set di informazioni che sono strettamente legate alla sede dell'impresa quindi a quella che è l'impresa nel suo complesso un set di informazioni che sono legate invece all'impresa intesa in senso l'ampio quindi con tutte le sue unità produttive e dei sotto insieme che invece sono focalizzati sulle persone fisiche come vi dicevo prima e ovviamente avere informazioni sulle persone fisiche di tipo anagrafico quindi sostanzialmente dove sono nati quanti anni hanno dove risiedono che tipo di carica svolgono c'è il sesso e così via consente in qualche modo di elaborare dei sotto insiemi di imprese che presentano determinate caratteristiche soggettive dal punto di vista dei detentori carica che all'interno di questa impresa hanno a punto svolgono una carica ne prendo una a caso allora all'avvio della schermata sostanzialmente mi si dà la possibilità di scegliere il periodo di riferimento dell'archivio un'altra cosa che non vi ho detto è che questa banca dati qui consente di fare elaborazioni riferite a un intervallo temporale più o meno lungo a seconda del periodo di rilascio dell'archivio quindi non è un'interrogazione del sistema delle camere informativo delle camere di commercio puntuale sul momento ma è l'archivio completo storico ora la 6 di più che è quella più evoluta e quella più recente parte dal 2011 ma ce ne sono altre che partono sostanzialmente dalla fine degli anni 90 una volta selezionato il periodo diciamo anno 2015 giusto per avere dei dati solidi il sistema mi dovrebbe rispondere spero perché se non mi rispondere finiamo male vai allora si apre questa tabella per ora molto elementare in cui compaiono a livello nazionale l'insieme completo delle imprese registrate quindi la prima informazione che abbiamo a disposizione è che al 31 dicembre 2015 le imprese ufficialmente registrate in Italia hanno 6 milioni 57 647 e dei flussi di iscrizione e cessazione che sono riferiti all'anno tutto quello che si vede da questa parte che è la parte succosa sono le varie variabili che possono essere impostate per poter in qualche modo elaborare delle tabelle a livello più dettagliato ciascuna di queste variabili può essere impostata come variabile di riga come variabile di colonna oppure come filtro a monte quindi è possibile arrivare ad un livello di dettaglio molto molto approfondito ad esempio potrei inserire una variabile analitica che è poi quella che conta di più relativa alle imprese attive per cui immediatamente il sistema mi dice sì le registrate erano 6 milioni e rotti e di questi 6 milioni 5 milioni e 144 mila erano le imprese attive per tutte se trattive registrate esatto le imprese attive sono quelle che non sono sottoposte a nessun tipo di procedura concorsuale quindi non sono in fallimento non sono in scioglimento non sono in liquidazione e non sono sospese cosa che succede spesso a Prato questo è un fenomeno abbastanza frequente ad esempio riguardo all'imprenditoria straniera perché spesso l'imprenditore magari torna al suo paese per un periodo più o meno lungo e sospende l'attività quindi quell'impresa cessa di essere in quel momento attiva e diventa registrata e tutte le imprese che nascono amministrativamente nel caso delle società è un caso molto frequente quindi la società si iscrive al registro delle imprese ma non è detto che attivi immediatamente la propria attività questo può avvenire in un momento successivo quindi nel momento di costituzione della società dal notaio o chi presso passa attraverso il dato del registro dell'impresa in quel momento l'impresa nasce è un soggetto giuridico fisicamente esistente ma non è ancora un'impresa attiva l'attivazione concreta dell'attività avviene quasi sempre in un momento successivo attraverso una denuncia agli uffici della Camera di Commercio che sono proprio quelle ai fini rea di cui vi parlavo prima tanto per fare un piccolo esempio io posso selezionare come variabile di riga la regione e il sistema immediatamente si aggiorna e mi fa vedere questi 6 milioni di imprese registrate come sono distribuite su territorio a livello regionale per ognuna delle variabili analitiche che ho preso in considerazione che in questo caso sono registrate le attive le iscrizioni e le cessazioni si può arrivare a livelli di approfondimento superiore ad esempio si può decidere di prendere una regione a caso la Toscana e di splittare la nostra tabella in questo senso in cui mi fa vedere l'aggregato regionale e come sono distribuite a livello di singola provincia in automatico il sistema praticamente mi ha aggiunto un filtro che è appunto quello sulla regione che io posso eliminare e ritorno a una situazione in cui ho tutta l'Italia divisa provincia per provincia ma posso anche semplicemente rimuovere dal report le province e ritornare alla situazione iniziale posso mettere più variabili per riga ad esempio posso prendiamone una semplice la classe di natura giuridica e con questo sistema regione per regione il sistema mi dà la distribuzione per classe giuridica delle imprese e posso ovviamente mettere delle variabili anche per colonna un esempio carina è questa in cui mi divide l'universo delle imprese a seconda di una variabile in più che è impresa giovanile o meno la banca dati funziona così è quindi estremamente potente rapida consente di fare delle lavorazioni abbastanza approfondite ci sono delle cosine che in qualche modo è bene chiarire ad esempio che cosa intendiamo che l'impresa giovanile anche qui si basa su un insieme di convenzioni per ottenere una tabella di questo genere significa che a monte i dati sono stati incrociati con l'archivio relativo alle persone fisiche sono state prese in considerazione nell'archivio persone fisiche la classe d'età del soggetto che detiene una carica e in base a una serie di convenzioni è stato deciso che cosa si intende per l'impresa giovanile o meno diciamo che la soglia è 35 anni d'età è possibile però fare una stratificazione ulteriore cioè si può in qualche modo cercare di analizzare le imprese giovanili per grado di presenza di soggetti con quella caratteristica cioè di età pari o inferiore a 35 anni e questo avviene attraverso un algoritmo in cui sostanzialmente si vanno a ponderare sia il numero di sia il tipo di carica detenuto e i soggetti che detengono quel tipo di carica sia per le società la partecipazione al capitale per essere meno per essere meno criptico è un po' lento però come mai questo infocamere non risponde ai vabbè insomma tanto me l'ha fatto sì ok fondamentalmente il sottoinsieme delle imprese giovanili è stato suddiviso in imprese che possono essere considerate esclusivamente giovanili in imprese in cui la presenza giovanile è forte e in imprese in cui la presenza giovanile è maggioritaria allora esclusivo è banale nel senso devono essere tutti giovani questo è immediato nel caso di una ditta individuale cioè se il titolare è al di sotto che la soglia è sicuramente un'impresa giovanile nel caso di una società occorre che tutte le quote detenute e tutte le cariche amministrative svolte all'interno di quelle imprese siano in capo a soggetti giovani forte non ve la sto a fare sofisticata un po' più complicata ma insomma sostanzialmente occorre che questa quota di partecipazione dei giovani sia superiore al 60% sia in termini di cariche detenute che in termini di quote di capitale ovviamente forte maggioritaria si applicano esclusivamente alle società e non più alle ditte individuali maggioritario occorre che questa partecipazione sia superiore al 50% questo tipo di analisi può essere condotta per diverse caratteristiche soggettive il sistema ne predispone tre fondamentalmente che sono quello relativo all'imprenditoria giovanile che vi ho presentato quello relativo all'imprenditoria femminile e quindi è possibile lavorare esattamente lo stesso tipo di tabella che vi ho presentato in questa sede prendendo come variabile non il fatto che l'impresa sia giovanile ma sia a conduzione femminile o a livello di impresa straniera laddove però anche lì c'è un criterio in cui sostanzialmente si prende il soggetto che svolge attività all'interno dell'impresa si guarda se è nato all'estero o meno e si stratifica secondo le variabili esclusivo maggioritario o forte che vi ho fatto vedere è anche possibile incrociare tra di sé queste variabili e quindi elaborare tabelle in cui ad esempio si va a vedere qual è il grado di imprenditoria giovanile all'interno dell'imprenditoria straniera per fare un esempio le altre variabili di stratificazione importanti sono ovviamente il settore d'attività il territorio questo l'abbiamo visto e praticamente non c'è altro questo è attualmente uno degli strumenti probabilmente più potenti che abbiamo a disposizione per poter elaborare statistiche sulle imprese se avete curiosità o domande io vorrei impostare questa cosa in modo dinamico quindi sentitevi pure liberi di intervenire e di di chiedere l'altra parte dell'archivio di cui vi parlavo invece prende come riferimento direttamente la persona fisica quindi qui diciamo che la persona fisica fa da sfondo e consente in qualche modo di fare delle lavorazioni sulle imprese l'oggetto di osservazione rimane l'impresa e la persona fisica in qualche modo ci consente di poter stratificare le imprese a seconda di quelle che sono le sue caratteristiche soggettive nata all'estero donna piuttosto che è giovane o meno altri archivi invece sono proprio direttamente orientati alle persone o per prendo per eccellenza funziona l'architettura funziona esattamente nello stesso modo però le variabili di stratificazione sono profondamente diverse cambiano i numeri siamo a 9 milioni a livello nazionale ovviamente perché non c'è una relazione uno a uno tra persona e impresa e le variabili di stratificazione per poter elaborare le tabelle ovviamente sono incentrati sulle caratteristiche soggettive delle persone fisiche ad esempio lo stato di nascita non si parla più genericamente di impresa straniera ma si parla di imprenditori nati in un determinato posto e via discorrendo poi le caratteristiche fondamentali di zesso eccetera le caratteristiche fondamentali sulle imprese quindi il settore d'appartenenza la forma giuridica e lo stato d'attività voglio dire quelle rimangono sicuramente utilizzabili ad esempio un'elaborazione che sicuramente suscita il vostro interesse è quella di mettere come filtro la nostra città non è che proprio vada sono io che non lo vedo non mi riesce a selezionarlo ecco queste sono le persone registrate a Prato mettiamoci anche le attive registrata o attiva fa capo alla situazione dell'impresa sulla base delle cose che vi dicevo prima si potrebbe prendere lo stato di nascita come variabile di riga quando si aggiorna avremo sostanzialmente nelle imprese cioè le persone che stanno dietro a quelle imprese suddivise per stato di nascita allora voi mi direte tutti gli anni tu ci presenti ci fai calare dall'alto questo report sull'imprenditoria straniera in realtà non è così semplice perché questi due archivi per alcuni versi si parlano ma per altri no e l'inghippo maggiore in questo caso di questo strumento qui è che io vedo l'elaborazione che mi fa vedere chi gestisce lo strumento in termini di grado di partecipazione all'impresa quindi secondo le variate di stratificazione ma non riesco ad abbinare direttamente quella persona a quell'impresa qual è il problema il problema è che essendo una relazione da uno a molti fondamentalmente in cui c'è un soggetto giuridico impresa e una pluralità di soggetti che detengono cariche amministrative in quella in quella impresa io non sono in grado di dire esattamente quant'è il numero delle imprese a cui quei soggetti fanno capo lo posso dire esclusivamente nel caso dell'edito individuale infatti l'Union Camere quando periodicamente diffonde con una certa rapidità i dati sull'imprenditoria straniera lo fa esclusivamente riferendosi all'edito individuale dove l'abbinamento persona fisica impresa è uno a uno ed è immediato quindi se il titolare è nato in Cina l'impresa è cinese nel caso delle si vede che senti Sapa anche lui nel caso delle società questo non è possibile e non è possibile primo perché io comunque non sono in grado attraverso uno strumento come questo che è molto rapido e molto semplice di poter stabilire a monte quel grado di partecipazione di cui vi parlavo prima e quindi non posso ad esempio isolare le imprese a conduzione mista ma poi il problema più grave è che questo strumento qui è centrato sulle cariche che le persone detengono all'interno di una determinata società o in più società quindi lo stesso soggetto può essere socio di due società amministratore no ma socio sì e qui dentro mi compare due volte quindi questo strumento qui è uno strumento molto potente molto agile per poter dare informazioni su quelle che sono le caratteristiche soggettive degli imprenditori per fascia d'età per sesso per settore di appartenenza specializzazione eccetera ma non mi consente di fare delle lavorazioni molto sofisticate per quello che riguarda la dinamica imprenditoriale ora qui purtroppo si va da sé ma sarà anche utilizzato non si non si vede va bene no sfido è la provincia di Prato va bene comunque insomma ora non volevo allungare se non avete domande visto e considerato che nemmeno funziona un granché io passerei alla seconda parte dell'intervento in cui cerco di farvi vedere come partendo da uno strumento di questo tipo si possono organizzare e far vedere delle informazioni che siano in qualche modo significative per poter spiegare come si comporta un determinato fenomeno imprenditoriale sul territorio questo purtroppo diciamo che per ora ci ha abbandonato poi io andrei avanti e e semmai ci possiamo ritornare come il volume perché no dovrei dovrei avvicinare il microfono scusate ok allora anche qui ho preparato qualche esempio per vedere un pochino che tipo di elaborazioni possono essere proposte che caratteristiche c'ha ciascuna informazione e ciascuna elaborazione in termini di potenziale informativo sulla dinamica imprenditoriale del territorio ho preso pari pari la tabella che vi ho elaborato prima cioè quella della distribuzione delle imprese a conduzione giovanile sul territorio per regione ci ho calcolato due indicazioni abbastanza elementari che sono uno l'incidenza di quella determinata tipologia di imprese sul totale delle imprese regione per regione quindi in Piemonte le imprese a conduzione giovanile sono 10% del totale e la variazione rispetto all'anno precedente che tipo di elaborazioni possono essere proposte sulla base di una tabella di questo genere la più elementare di tutte è quella di prendere fondamentalmente il valore assoluto regione per regione e di metterlo in scala come è stato fatto in questo caso e questo ha un vantaggio nel senso che mi dà immediatamente una percezione di come sono dislocate sul territorio le imprese a conduzione giovanile per cui io so immediatamente che la Lombardia è la regione nella quale ce ne sono di più e ce ne sono quasi 80.000 seguita dalla Campania a Lazio e via discorrendo il limite di una fotografia di questo genere è che non mi dice niente su quello che è il peso specifico di quel determinato fenomeno in quella determinata area per intendersi voglio dire è abbastanza fisiologico che in Lombardia ci siano più imprese giovanili di quanto non ce ne siano in Basilicata Molise o Val d'Aosta è un'informazione sapere quante sono di qua e quante sono di là ma io non riesco a dire niente in termini del peso e del ruolo che quel determinato fenomeno ha all'interno di una certa area territoriale e questo semplicemente perché la struttura imprenditoriale della Lombardia non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella della Basilicata o della Val d'Aosta quindi potrei ribaltare le cose e andare a prendere non tanto il valore assoluto bensì la quota percentuale delle imprese di quella determinata tipologia prenditoria giovanile e sul totale delle attive e le cose cambiano sostanzialmente i più attenti di voi si saranno resi conto che guarda caso Molise Basilicata e Val d'Aosta stanno tutte davanti alla Lombardia quindi è vero che quel fenomeno è più presente per una questione di massa e di volumi in Lombardia ma è vero anche che in termini di importanza per l'economia generale di quel determinato territorio questo fenomeno pesa di più in Basilicata Val d'Aosta e via discorrendo di solito un'elaborazione di questo genere consente di poter prendere un riferimento territoriale più ampio in questo caso l'Italia e suddividere la distribuzione tra le imprese che hanno tra le regioni che stanno sopra la media nazionale e le regioni che stanno sotto un'elaborazione di questo tipo io ho preso un'imprenditoria giovanile la potevo fare per ognuna di quelle variabili che vi ho fatto vedere prima la posso fare per le imprese femminili la posso fare per le imprese straniere posso prendere a riferimento un settore quindi elaborare una statistica in cui l'oggetto la variabile di osservazione non è l'impresa giovanile o meno ma che ne so le imprese nelle costruzioni piuttosto che nel manufatturiero oppure ancora le imprese giovanili nel manufatturiero e nelle costruzioni quindi io vi spiego il metodo e vi illustro come sostanzialmente possono essere trattati i dati le variabili di stratificazione e di soluzione di incroci possibili sono offrono diciamo un ventaglio abbastanza ampio c'è da c'è da sbizzarrirsi abbastanza un modo alternativo per poter rappresentare i dati partendo sempre dallo stesso tipo di informazione è quello di metterli su un cartogramma come è stato fatto in questo caso vantaggi e svantaggi il vantaggio è che immediatamente è possibile avere un'idea abbastanza rapida di quello che è il peso relativo del fenomeno oggetto d'osservazione di come questo fenomeno si distribuisce sul territorio lo svantaggio è che richiede un'elaborazione ulteriore più delle volte e qui infatti non viene riportato il valore assoluto come nel caso precedente dell'incidenza percentuale delle imprese con quelle determinate caratteristiche sul totale ma questa variabile deve essere in qualche modo raggruppata in classi e questo è una questione di economicità di semplicità di rappresentazione cioè se io utilizzassi dati puntuali dovrei avere 20 gradazioni diverse per intendersi oppure utilizzare colori diversi ma facendo così perderei il potenziale informativo immediato che invece un'elaborazione di questo tipo mi dà e quale si vede con estrema rapidità sostanzialmente che la concentrazione in termini di peso dell'imprenditoria giovanile è mediamente superiore al sud per quanto riguarda il nord è relativamente maggiore nella parte ovest mentre il nord-est è l'area dove questo fenomeno probabilmente ha un peso relativamente inferiore o fino qui noi abbiamo preso in considerazione una variabile cioè abbiamo considerato il fenomeno dell'imprenditoria giovanile e abbiamo visto sostanzialmente come si distribuisce in termini in termini di peso o in termini assoluti di quel determinato tipo di fenomeno in una determinata area territoriale la variabile è una però quante sono o qual è il tuo peso specifico si possono proporre anche elaborazioni un po' più sofisticate in cui io prendo a riferimento non una variabile sola ma due si pone il problema fondamentalmente di trovare un sistema efficiente per poter rappresentare graficamente nella tabella che io vi ho elaborato oltre al numero assoluto e all'incidenza percentuale su totale relative ci abbiamo messo anche la variazione rispetto all'anno precedente del fenomeno allora una elaborazione anche in questo caso abbastanza elementare è quella comunque di prendere questo dato e di rapportarlo singolarmente ma qui siamo sempre sul livello di una variabile quindi questa elaborazione qui trascura completamente l'aspetto della scala e della dimensione e mi fa vedere quale è stata nell'anno 2015 la variazione percentuale delle attive delle imprese attive regione per regione è un'informazione probabilmente è un'informazione di solito giornalisticamente molto utilizzata qual è il limite di questo tipo di informazione che prescinde dalla scala cosa vuol dire vuol dire che ad esempio guardandola è vero che il Molise ha avuto una contrazione delle imprese a conduzione giovanile del 5% che è tanto e quella peggio sostanzialmente nell'anno un corso però data la dimensione del Molise rispetto alla Campania o rispetto alla Lombardia quella contrazione in realtà è in termini assoluti molto minore di quanto non lo sia stata in Campania dove la base è molto più ampia e allora come si fa fondamentalmente a cercare una rappresentazione nella quale io cerco di tener conto di entrambe queste informazioni devo andare su un sistema di questo tipo che di solito spaventa ma oggi ci perdiamo un po' di tempo e spero di risolvere allora così non è proprio di immediata lettura me ne rendo conto è un sistema cartesiano nel quale io ho preso in ordinata la variazione percentuale rispetto all'anno precedente e in ascissa la quota sul totale delle attive quindi ho considerato in un unico sistema entrambe le variabili di cui vi ho parlato finora di solito per agevolare la lettura di un sistema di questo genere si piglia un riferimento e il riferimento che viene utilizzato in questi casi è la media quindi le due righe rosse identificano sostanzialmente i valori medi a livello nazionale assunti dalle due variabili oggetto d'osservazione quindi fondamentalmente che a livello nazionale la quota percentuale sul totale attivo è intorno a 10 e 7 per cento e che a livello nazionale la contrazione delle attive rispetto all'anno precedente è stata del meno due e mezzo meno due e sette ora non ricordo con questo sistema qui fondamentalmente io vedo immediatamente ciascun gruppo di regioni come si è comportato rispetto alla media nazionale allora solitamente ma non è sempre così e dopo vi farò un esempio in cui vi faccio vedere che non è così solitamente comunque si identifica l'area che sta in questo quadrante qui come la peggio cioè quella per la quale fondamentalmente la singola regione in questo caso l'Emilia Romagna le Marche il Piemonte il Veneto hanno valori per entrambe le variabili che sono peggiori rispetto a quanto non sia il valore medio a livello nazionale al contrario le regioni che si collocano nel quadrante a nord-est presentano per entrambe le variabili oggetti d'osservazione migliori rispetto alla media nazionale e quindi si dice in generale che è il quadrante tra virgolette migliore i due quadranti che invece stanno nella diagonale che va da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso sono evidentemente una situazione intermedia quindi la Toscana in un esempio di questo genere si colloca diciamo come contrazione rispetto all'anno precedente meno intensa di quanto non sia stata a livello nazionale tenete conto che il fenomeno è stato negativo praticamente in tutte le regioni escluso in una posizione per la quale però la quota l'incidenza e la partecipazione dell'imprenditoria giovanile rispetto alla media nazionale è relativamente più bassa domande curiosità la campagna è la prima che la prima che la campagna sia campagna e quando dice che non è lavoro come è che ogni parte che ha avviato ancora questa sì la base imprenditoriale italiana non sta crescendo no io ho il contatto su Repubblica su questa cosa dei giornali era perché c'erano i fondi europei se vedete tutte nel sud dove sono obiettivo due che c'erano certo ora io voglio dire sì il mio obiettivo stasera è quello di farvi vedere come possono essere elaborati i dati non voglio entrare nel merito della qualità del risultato no no sicuramente nel senso le spiegazioni possono essere emoteplici certo voglio dire il sud d'Italia è stato mai possiamo parlare di decenni oggetto di fondi di promozione di origine comunitaria quindi e questo voglio dire in qualche modo Calabria Campania Sicilia stanno ai primi tre posti come incidenza certo da qui a dire va bene dice no il PIL non diminuisce il PIL aumenta si va su un piano un po' diverso anche perché non è che la consistenza imprenditoriale di per sé mi giustifica l'andamento dell'economia è una delle variabili oggetto di osservazione non sono tante altre domande sì 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 Sì, se non basta, perché, ecco, la lettura di tutti i dati, cioè, guarda il fatto di loro, ha un po' di qualche vera cosa. Ma se non i nuovi conoscessero bene, non sono un po' di un'intervista, da tutti i dati, ne sono tutti i dati, e non è di testa, e non ci sarebbe avuto un'idea di pensare di quale è un'intervento. Beh, sì, io ho un'elaborazione, infatti qui l'ho proposta, ed è l'ultima slide, un'elaborazione di questo genere assume un significato particolare se io prendo, ad esempio, come riferimento un settore. Se io riesco a distinguere, invece che far vedere, ve lo faccio vedere perché è l'ultima slide, ma fondamentalmente, se invece di prendere come oggetto la consistenza assoluta, io prendo i settori, e li metto in un sistema di questo genere, io riesco a vedere immediatamente quali sono i settori in crescita, e qui no. Potrebbe essere un'informazione di una qualche rilevanza, diciamo, per chi decide di... Comunque, allora, se non ci sono domande, andiamo avanti. Vi propongo altri tipi di elaborazione. Qui le variabili oggetto di osservazione sono il settore di attività dominante e la consistenza numerica delle imprese. Ho preso Prato perché ce l'avevo pronti, ma ovviamente lo potevo fare prendendo come riferimento qualsiasi tipo di dimensione territoriale, e quindi, voglio dire, se poi nel vostro lavoro un domani foste interessati a sapere com'è la struttura penditoriale di Crotone, piuttosto di Biella, la Camera di Commercio, qualsiasi Camera di Commercio in Italia, è in grado di darvi una risposta tempestiva. Allora, questa è la fotografia della struttura penditoriale pratese alla fine dell'anno scorso. Le imprese attive, 28.975, tasso di crescita 0%. Sono dati che conoscete, quindi è inutile. Come li posso rappresentare? Cioè, che tipo di, perché l'oggetto del mio intervento vuole essere soprattutto questo, che tipo di strumenti posso utilizzare per poter fornire una fotografia del territorio che sia il più preciso e puntuale possibile? Partiamo dal semplice. Un primo elemento può essere quello semplicemente di prendere la distribuzione e di suddividerla per il settore, facendo vedere un po' qual è il peso relativo dei singoli settori all'interno di una determinata economia. Questa è puntuale, anno 2015, si può offrire fotografie di questo genere, magari mettendo un confronto, due torte, una riferita alla realtà economica di interesse e una un aggregato un po' più grande, tipo, che ne so, la regione, piuttosto che l'Italia, si possono utilizzare strumenti diversi, ma comunque la filosofia è la stessa. Un primo impatto, una prima immagine, voglio dire, in quel momento voglio offrire una fotografia di quello che è la dimensione in termini relativi e il peso di ciascun settore all'interno di una determinata economia. E lo strumento per antonomasia è quello relativo alla composizione percentuale. posso prendere ad esempio l'altra variabile che vi ho fatto vedere prima, cioè quella da una parte avevo la consistenza delle attive e da quell'altra c'ho la variazione percentuale, magari metterla a confronto con quello che era successo l'anno prima, come in questo caso, e far vedere un pochino come si sta evolvendo diciamo la situazione economica, diciamo come si sta evolvendo la struttura della base imprenditoriale e non la situazione economica. E già questa a me una qualche informazione comincia a darmela, cioè in un contesto generale dove la crescita è nulla per non dire negativa, che è quella riportata diciamo in fondo al totale, ci sono comunque dei settori che vanno un po' meglio, dei settori che vanno un po' peggio, dei settori che nell'anno 2015 sono andati un po' meglio rispetto all'anno prima o un po' meno peggio rispetto all'anno prima. Quindi può sembrare complicato, però alla fine una elaborazione di questo genere già contiene in sé numerose informazioni. ad esempio tessile voglio dire è strutturalmente un settore in decrescita e sembrerebbe che la situazione sia addirittura peggiorata nel 2015 rispetto al 2014. Anche i trasporti sono strutturalmente in flessione però nel 2015 questa flessione è stata più contenuta rispetto all'anno precedente. Stessa cosa dicasi per le attività immobiliari mentre ci sono dei settori in cui voglio dire il passo di crescita sembrerebbe in qualche modo rafforzarsi come nel caso dell'alloggio e della ristorazione. Quindi questa è una fotografia che ha un certo potenziale informativo però resta una fotografia cioè mi fotografano una situazione in due momenti precisi distinti la fine dell'anno la fine del 2014 quanto è stata la variazione rispetto all'anno precedente e la fine del 2015 quanto è stata la variazione rispetto all'anno precedente. Se uno vuole avere un'idea un po' più dinamica può utilizzare uno strumento di questo tipo qui che è molto più puntuale in cui l'elaborazione viene condotta non prendendo a riferimento la variazione percentuale di un anno rispetto all'anno prima o di un trimestre rispetto al trimestre precedente o rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente ma prendendo un anno come riferimento rapportare la consistenza imprenditoriale a quell'anno in questo caso il 2008 dire fondamentalmente fatto 100 il 2008 come si sta evolvendo la struttura imprenditoriale sul territorio qual è il vantaggio di un'elaborazione di questo genere? Il vantaggio di un'elaborazione di questo genere è che rapportando tutti i settori a 100 sostanzialmente io perdo il problema di scala cioè se io prendessi la variazione assoluta e volessi far vedere questo grafico prendendo i dati puntuali avrei dei problemi grossi di scala semplicemente perché un settore può essere molto più consistente di un altro l'informazione qui è abbastanza immediata facilmente leggibile abbiamo un settore che cresce strutturalmente e da tempo che è quello relativo alle attività commerciali e soprattutto alle attività legate al turismo e alla ristorazione è un settore che strutturalmente da un decennio a questa parte perché potrei allungare è in flessione continua che è quello delle costruzioni e poi ci sono dei settori che invece sono un po' più vicini all'andamento della media e su questo però occorre fare una precisazione tecnica e qui si entra un po' più nel difficile allora strumenti di questo genere hanno un potenziale informativo abbastanza forte hanno un limite legato al fatto che io non posso fare 50 righe giusto per essere esplici perché se no non si capisce più niente quindi in qualche modo devo scegliere un criterio per raggruppare settorialmente le imprese ma questi settori hanno dimensioni tra di loro profondamente diverse quindi io riesco in qualche modo a ovviare al problema della scala utilizzando un numero indice come in questo caso quindi io dico se quell'anno sono tutte 100 faccio finta che siamo tutte 100 poi sostanzialmente come si evolve nel tempo il territorio quindi partono più o meno tutte allo stesso punto e mi fa vedere come si evolve il fenomeno il problema qual è? il problema è che utilizzando strumenti di questo genere il confronto con l'andamento totale è debole perché l'andamento totale risente in modo determinante dei settori più grossi cioè nella slide che ho fatto vedere prima questa manifatturiero e servizi sono oltre il 50% delle imprese vuol dire che il comportamento di manifatturiero e servizi sulle dinamiche evolutive totali della struttura imprenditoriale incide per più del 50% incide molto di più di quanto non incida la loggia della restaurazione o commercio o le costruzioni ed è per questo motivo anche ma non solo ma anche ed è una cosa della quale occorre tener conto che le linee relative a servizi e a manifatturiero sono vicine all'andamento totale perché perché l'andamento totale è funzione anche e soprattutto di quello che succede in quei settori lì ora si va sul difficile allora queste analisi che vi ho proposto sulla sull'imprenditoria pratese recente cosa mi dicono mi dicono sostanzialmente come il sistema si sta evolvendo in termini aggregati quindi quali sono i settori che crescono e quelli che sono in contrazione partendo da una determinata struttura è un'informazione importante di solito è l'informazione per eccellenza è la prima che viene in mente no? Quali settori sono in crescita e quali no? Non mi dice niente però su quello che sta intervenendo all'interno di ciascun settore cioè un fenomeno fondamentalmente può crescere di una certa intensità ma alla fine del periodo successivo io posso registrare che è cresciuto ma non sono in grado di dire niente su quanto è diverso rispetto all'anno prima per intendersi io posso io posso avere 50 imprese in più perché se ne scrive 100 e ne chiude 50 ne posso avere 50 in più perché se ne scrive 2000 e ne chiude 1950 alla fine io avrò una fotografia della situazione imprenditoriale molto diversa e questa è un'informazione abbastanza importante soprattutto in tessuti imprenditoriali che si caratterizzano per una si dice turnover e poi ora vi spiegherò nel dettaglio di che cosa si parla piuttosto elevato è quindi chiaro che un'informazione in più e che è comunque disponibile a livello dei dati del registro delle imprese l'avete visto prima con Stockview è guardare non soltanto la consistenza finale di un fenomeno all'interno di un determinato intervallo temporale quindi le imprese attive a un certo anno all'anno successivo all'anno successivo ma guardare all'interno di ciascun anno quelli che sono stati i flussi di nuove imprese scritte e di imprese che hanno chiuso nel frattempo di solito in questo tipo vi do un'altra notazione metodo che è importante di solito quando si fanno elaborazioni che guardano ai flussi quindi in questo caso ai flussi di iscrizione e ai flussi di cessazione il riferimento che si prende non è quello relativo alle imprese attive ma è quello relativo alle registrate e questo per i motivi che sul suggerimento di Silvia vi ho illustrato prima perché un'impresa si può iscrivere ma non essere attiva e soprattutto un'impresa può cessare e non essere più attiva da tempo quindi per avere una misura precisa e attendibile di quello che è l'andamento della dinamica imprenditoriale i flussi di iscrizione e di cessazione è opportuno e saggio riferirli non al totale delle attive bensì alla consistenza delle registrate l'andamento dei flussi relativi di iscrizione e cessazione ci consente di calcolare determinati tipi di tassi che sono il tasso di crescita il tasso di iscrizione il tasso di cessazione e il tasso di turnove il tasso di crescita è abbastanza banale così come sono banali i tassi di iscrizione e i tassi di cessazione il tasso di crescita prende la differenza tra le iscritte e le cessate in un determinato intervallo temporale e le mette in rapporto con le imprese registrate l'anno prima il tasso di iscrizione prende secco il numero delle iscrizioni e le mette in rapporto con le imprese registrate l'anno precedente il tasso di cessazione fa la stessa cosa con le cessate è chiaro che settori per i quali il tasso di iscrizione è superiore rispetto al tasso di cessazione avranno un tasso di crescita positivo ed è chiaro che settori in cui avviene il contrario avranno un tasso di crescita negativo ma per poter offrire la fotografia di cui parlavo prima cioè quella di vedere come da un anno a un altro un determinato realtà imprenditoriale si sta modificando al suo interno l'indicatore più importante è il turnover e siccome mi è capitato in passato di un'occasione delle occasioni di incontro dover perdere io mi sono inventato un sistemino grafico vediamo se poi me lo dite voi se sono stato abbastanza esauriente allora prendiamo le registrate all'anno 2014 è una fotografia ci potremmo mettere proprio fisicamente una fotografia ora non ho avuto tempo ci ho messo un quadrato celeste ma insomma fondamentalmente immaginatevi che questo quadrato rappresenti la consistenza delle imprese registrate alla fine del 2014 scorre il 2015 e che cosa succede? succede che nell'arco del 2014 ci sarà una parte di imprese che chiude le cessate e una parte di imprese che si aggiunge che sono le iscritte alla fine dell'anno io avrò una fotografia di questo tipo in che cosa si differisce questa fotografia rispetto alla fotografia dell'anno non ci sono più le cessate e si sono aggiunte le iscritte è banale ma voglio dire la dimensione del turnover dipende da quanto è rimasto uguale cioè da quella che è l'entità dell'area che è rimasta celeste quindi diciamo che il turnover è una misura del tasso di ricambio interno al tessuto imprenditoriale la cui entità dipende in modo determinante da quella che è la dimensione dei flussi di iscrizione e di cessazione in un determinato anno in rapporto a quella che è la consistenza dell'impresa registrata a fine dell'anno prima per essere più precisi se io prendo una situazione di questo tipo io qui ho due realtà di turnover profondamente diverse all'inizio ho esattamente la stessa struttura imprenditoriale sono identiche alla fine dell'anno io avrò una situazione profondamente diversa e la diversità è fatta dall'entità dei flussi quindi avrò un primo caso in cui ho un turnover relativamente più elevato e un secondo caso in cui ho un turnover relativamente più basso e l'entità è data semplicemente dal fatto che l'area che è rimasta celeste è di più dove il turnover è basso c'è perché non sono mai troppo semplici le cose c'è un altro aspetto però legato al fatto è vero che il turnover è più elevato nel caso di sopra ma è anche vero che nel caso di sopra le imprese sono cresciute di più quindi non è necessariamente cioè i fenomeni sono strettamente connessi tra di loro comunque sperando di essere stato abbastanza chiaro la differenza una misura della differenza complessiva tra le fotografie che possono essere scattate guardando ai flussi è data proprio dall'entità relativa dei flussi di iscrizione e di cessazione rispetto alle imprese registrate e quindi in formula fondamentalmente è questa qui io vado a sommare per calcolare il turnover le scritte alle cessate e le metto in rapporto alle registrate a cosa mi può servire un'elaborazione di questo tipo mi può servire a cercare di sintetizzare al massimo le informazioni in cui prendo come vi ho fatto vedere prima a riferimento due variabili quindi quanto un settore cresce e qual è il tasso di ricambio interno a quel determinato settore ma siccome mi piace complicare ulteriormente le cose ce ne ho messa anche una terza di variabile e qual è la terza variabile la terza variabile è la consistenza di quel determinato settore se vi ricordate il grafico precedente ogni regione c'era lo stesso pallino erano tutti uguali i pallini qui no qui la dimensione del pallino è in funzione di quella che è la consistenza di quel determinato settore all'interno dell'imprenditoria del tessuto imprenditoriale dell'area anche qua per poterli leggere in modo più agevole è bene prendere a riferimento delle medie e quindi si prende come riferimento sia la variazione media annua delle imprese del totale delle imprese sia il turnover medio annuo delle imprese e e che cosa mi dice da un'analisi di questo tipo si capisce in modo abbastanza immediato che i settori che vanno peggio sono trasporti tessili e costruzioni che sono settori la cui dinamica interna è molto modesta si caratterizzano per un turnover che è significativamente più basso rispetto alla media quindi c'è poco ricambio all'interno della base imprenditoriale e per di più si contraggono e si contraggono molto di più di quella che è la media generale all'estremo opposto ho invece questi settori qua che si caratterizzano per una crescita relativamente sostenute soprattutto i servizi di alloggio e di ristorazione e le attività informatiche e anche lì dentro il turnover è un turnover abbastanza moderato perché non è detto che un turnover elevato sia necessariamente un bene anche perché voglio dire va a inficiare quella che è la stabilità del tessuto imprenditoriale in una determinata area anche in termini di quelli che possono essere poi i rapporti che effettivamente si vengono a installare sul territorio voglio dire tanto siamo a Prato e tutti sapete esattamente quale può essere il problema il settore delle confezioni è un settore la cui crescita è diminuita molto negli ultimi anni qui ho preso riferimento alla variazione media annua dal 2011 al 2015 non vi spiego come si calcola la variazione media annua perché andrebbe un po' troppo sul complicato ma comunque fondamentalmente è un indice in cui mi dice quanto è stato un tasso medio di variazione anno per anno in quell'intervallo temporale è una media un po' più sofisticata della media aritmetica quindi ha un tasso di crescita che è sempre positivo diciamo ma molto ridotto rispetto ai tassi di crescita dell'imprenditoria cinese o straniera comunque insomma voglio dire sperimentava prima della crisi però si caratterizza anche per un turnover che è significativamente elevata e data la dimensione della bolla che non è trascurabile è poi il dato che mi porta in alto il turnover complessivo della provincia infatti Prato ha un tasso di turnover relativamente più elevato rispetto ad altre aree del paese detto così io la presentazione l'avevo finita se avete domande interventi curiosità soprattutto sulla parte relativa alla banca dati secondo me insomma si può fare questo sì no l'aggiornamento è abbastanza rapido se non vado errato giovedì sono usciti i dati relativi al terzo trimestre in alcune delle ora giovedì non avevo tempo proprio per però in alcune delle elaborazioni che vi ho presentato qua questa è aggiornata al secondo semestre 2016 Q2 questa è aggiornata a giugno che sono le ultime elaborazioni che avevo quindi diciamo che è un mese e mezzo un mese di ritardo rispetto alla chiusura dell'anno ma è arrivata la mail da infocamere giovedì mercoledì o giovedì il totale imprese giovanile è dato dalle imprese in cui la partecipazione giovanile è maggioritaria quindi sopra il 50% poi il sistema però consente di poter fare una stratificazione ulteriore in cui mi dice sì di queste voglio dire andiamo a vedere quelle che sono a esclusiva conduzione giovanile in cui la presenza giovanile è forte quindi superiore al 60% oppure semplicemente maggioritaria e questo criterio è esattamente lo stesso che viene utilizzato per identificare le imprese femminili e per identificare le imprese a conduzione straniera prima di salutarli dici un paio di appartenze che sono tanti e non vorrei che poi si comincia tutto a dare numeri cioè i dati vanno usati con cautela che si deve fare come si devono trattare nell'utilizzo appunto di tutti questi numeri allora io diciamo che tendo un po' a verificarli più delle volte lo strumento che vi ho fatto vedere all'inizio cioè che la banca dati è uno strumento potente simpatico che mi consente di dare delle risposte abbastanza immediate ed è quello sulla base del quale poi più delle volte elaboro statistiche sulle quali diciamo l'immagine di errore può essere modesta vi dico subito che per elaborare i dati sulle imprenditoria straniera io non utilizzo che la banca dati per i problemi che più o meno vi ho accennato in precedenza nel senso che non è possibile fare un abbinamento per poter fare quel tipo di elaborazione lì bisogna andare a livello di dato elementare cioè prendere proprio la singola posizione costruirsi un database cosa che viene fatta nella quale posizione per posizione si va a verificare sostanzialmente la coerenza del dato almeno dal punto di vista statistico e amministrativo e non è un'operazione banale non lo è per niente ci sono purtroppo dei problemi a livello strutturale dell'archivio che rendono necessario di andare a verificare puntualmente molto spesso se effettivamente quella determinata situazione è diciamo rispondente alla realtà cosa voglio dire soprattutto riguarda l'imprenditoria straniera e sappiamo tutti che la qualità del dato non è eccelsa non è infrequente il caso in cui determinati tipi di posizione risultano attivi in camera di commercio poi uno si presenta lì non c'è più niente questo può succedere da questa parte voglio dire l'aggiornamento degli archivi a livello di sistema avviene abbastanza di frequente tutte le settimane non una banca dati che invece fornisce dati di tipo trimestrale ma a livello a livello di divisura quindi di dato elementare la frequenza dell'aggiornamento è settimanale però è chiaro che molto dipende dalla tempestività con cui l'imprenditore comunica le proprie decisioni alla camera di commercio e quindi questo spesso può creare delle distruzioni dal punto di vista del metodo io spero in questo mio intervento gli avevi trasmesso questo messaggio cioè il modo in cui un determinato dato viene presentato non è del tutto svincolato dal messaggio che uno fa passare e lì secondo me dipende molto dalla sensibilità e dall'onestà intellettuale di chi fornisce informazioni questo credo che sia la premessa più importante una cosa è vedere i dati in termini assoluti una cosa è porli in relazione a un determinato fenomeno la manipolazione sul dato può dare dei risultati molto potenti in termini di potenzialità esplicativa però voglio dire può anche surrettiziamente essere utilizzata per poter nascondere determinate cose senza dire una cosa per un'altra anche questo ragazzi però fa parte della vita non so se vuoi aggiungere qualcosa va bene buona domenica grazie a tutti Grazie a tutti